Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Arretto solo un tempo la resistenza del giovane Porto Sant'Elpidio sconfitto 3-0 in casa dalla vasto Girardi che rompe di prepotenza in zona playoff andando ad occupare la quarta posizione in classifica. Ad un primo tempo tutto sommato equilibrato, dove le due squadre hanno creato un paio di situazioni pericolose, si è contrapposta a una seconda parte della gara in cui i molisani hanno concesso davvero pochissimo spingendo di più sull'acceleratore. Entrambi gli allenatori sono stati costretti subito ad un cambio guida tra gli ospiti, costretto a lasciare il posto a Salatino, mentre a metà tempo Alessio Palladini riceve un pestone involontario dall'arbitro riportando la distorsione della caviglia destra al suo posto Cesetti. I locali chiudono gli spazi e quando possono si fanno vedere con qualche buona progressione, al 29esimo Zira si vede respingere sulla linea la palla con un intervento molto attento di Acunzo, la punizione di Ruggeri sul fronte opposto non spaventa Cavaliere. A fine primo tempo cartellino giallo per mister Tridici che chiedeva più rispetto per i suoi ragazzi da parte del direttore di gara, arbitraggio insufficiente per Olmi Zippilli di Mantova. In avvio di ripresa subito due cambi per i molisani, Raucci e Pesce prendono il posto di Acunzo e Gentile. Nei marchigiani esordio per l'attaccante Carissimi, al posto di Zira. La squadra paga una condizione atletica non brillante, mentre la truppa di Prosperi inizia a conquistare metri in campo. Il vantaggio al 27esimo porta la firma di Maniscalchi al termine di un'azione avvolgente. Il Porto Sant'Empidio si sbilancia, subisce in tre minuti altri due gol. Al 38esimo Salatino fa 2-0, mentre la terza marcatura ospite la firma Minichillo. Marchigiani sempre più in fondo alla classifica e ancora con la casella vittoria in questo campionato ferma a quota zero e con il peggiore attacco del torneo con appena quattro gol segnati. Mister, era un primo tempo equilibrato e poi nella ripresa non c'è stata partita? La ripresa diciamo che loro si sono dimostrati più in forma fisicamente. Noi siamo un po' calati e nel momento che stavo facendo qualche sostituzione, perché loro si erano messi a 4-4-2 e quindi avevano superiorità sulle fasce, ci ho spostato un attimino a Gelsi sulla fascia per sopperire il discorso dei raddoppi marcatura, ho mandato a scaldare dei ragazzi per poter riprendere il 4-3 e il 5-3-2 che avevamo prima e in quel momento ci ha fatto gol. Quindi dopo è cambiata la partita. Diciamo che anche l'infortunio di Palladini è stata fondamentale, perché per noi è un giocatore importante. Quindi niente, questa è la partita. Grazie a tutti.